ben trovati davide il critico oggi ci avviciniamo passo passo ad una sfida veramente molto delicata perché è la sfida di venerdì sera contro quella squadra che non pronuncerò più fino alla gara io non pronuncerò più il nome di quella squadra è una scelta editoriale non legata alla scaramanzia però io non la citerò più fino a venerdì sera ci sarà una partita molto 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 delicata sappiamo che avremmo delle assenze importanti dico delle perché sono due i giocatori che sicuramente non saranno presenti uno è Zierze e l'altro è il numero 10 Carson tra l'altro su Carson inizia a pensare ci sia un po' di scaramanzia da parte di Tiago perché non avendolo mai schierato e avendo sempre noi portato a casa ottimi risultati siamo quarti in classifica a più tre sulla Roma diciamo che se sono quarto gioco così bene e Carson è sempre rimasto seduto lì in quella scrana non vorrei dire non sono così non sono così proprio io d'indole però lì lì secondo me non gioca male a questo punto inizia a pensare che lì non è poi la posizione più sbagliata del mondo ecco per niente anche se è infortunato io nella sua postazione in panchina lo farei sempre sedere non per scaramanzia ci mancherebbe altro ma per riproporre un modulo che ha dimostrato dare grandi grandissimi benefici chi ha visto l'altro video ha visto che ero tutto vestito coperto due o tre giorni fa oggi maglietta maniche corta perché sembra sia arrivata l'estate oltre che questa sfida molto delicata contro questo avversario che gioca in Toscana e per quanto riguarda la formazione iniziale del nostro Bologna ecco i punti interrogativi sono tantissimi sono tantissimi e anche le opinioni dei tifosi perché se per l'assenza di Zirze bisogna trovare un altro centro avanti ecco non siamo più ridotti come qualche mese fa nel quale ragazzi avevamo una bellissima sedia Banoidonk che mettavamo sul cerchio di centrocampo e picchiamoci contro tiriamogliela contro vediamo se ci ritorna indietro rimbalzando adesso le alternative ci sono e addirittura non sembrano essere solamente quelle due scontate ovvero Odgard e Castro ma potrebbe prendere piede anche l'ipotesi Fabian tutti e tre hanno secondo me delle ragioni per essere impiegati titolari anche il buon Fabian per come vedo io il calcio l'ultima delle tre opzioni e per questo io vi posso già garantire che sarà proprio lui il titolare proprio perché io non me lo aspetto e so che Tiago guarda il video e dice Davide non se lo aspetta bene Fabian con Ebischer che gli gira intorno ma a parte gli scherzi io punterei più su Odgard in una sfida come quella di Empoli grande fisicità e soprattutto ha dimostrato anche di vedere la porta Castro è quella scelta esotica che una parte di me vuole con tutto se stesso però ho paura che la scelta di Castro sia più dettata dalla volontà di vedere questa ciliegina sulla torta del nostro mercato invernale piuttosto che al reale coinvolgimento del giocatore negli schemi di Tiago Motta o perlomeno mi immagino che Odgard abbia un modo di giocare già amalgamato con la squadra cosa che Castro un po' meno perché ha avuto poco tempo seppur Castro sia entrato benissimo perché contro l'Inter a me è piaciuto come entrato una gran rabbia una gran voglia di conquistare i palloni e alcuna paura di andare a fare a sportellate con l'avversario e provare anche il tiro fuori perché è arrivata a me la palla che ha tirato verso la porta però comunque ci ha provato Odgard invece ha fatto l'esterno so che molti di voi mi hanno commentato anche l'altro video dicendomi guarda che Odgard in carriera ha fatto anche l'esterno sì certo ci mancherebbe altro lo so però Bologna l'abbiamo sempre visto come punta centrale e per quanto riguarda il campionato italiano io da totale ignorante me lo sono sempre immaginato anche per il suo fisico punta centrale visto che comunque con l'Inter aveva in panchina Orsolini e Ndoie che di lavoro fanno proprio l'esterno ma con Tiago Motta io sono due anni che ammetto visto anche i risultati di non capire niente non di calcio è a questo punto di tutto di tutto io da quando Tiago Motta è arrivato a Bologna ho messo in dubbio qualsiasi cosa qualsiasi cosa qualsiasi qualsiasi quindi figuratevi voi la posizione di Odgard in campo figuratevi quella quindi le opzioni davanti sono tre perché Fabian potrebbe essere un'ipotesi perché comunque spalla nella porta in una sfida in cui mi aspetto un Empoli molto chiuso può darti quel centrocampista in più con anche però il vizio del gol perché Fabian fa gol stimolante ecco stimolante per quanto riguarda il resto mi aspetto Ferguson titolarissimo con la fascia da capitano mi aspetto Freuler lì in mezzo mi aspetto dall'inizio non so perché è un Eladouzi invece che un Ebisher un po' così a sensazione e dietro io credo che in una gara come quella di Empoli al di là di Belchema imprescindibile Posch e Christensen che non li sposti neanche anche perché comunque al posto di Posch potresti provare secondo me ogni tanto un De Silvestri con un maggiore minutaggio però ammetto che a me Posch contro l'Inter non è dispiaciuto e Christensen per quanto abbia avuto quell'amnesia che se Barella fa gol io sono ancora qua arrabbiato come un animale che mangio l'erba dal nervoso però anche Christensen contro l'Inter ho visto avere coraggio e avere voglia di mostrare il suo valore quindi io Christensen e Posch li riproporrei tranquillamente magari Lollo in alcune circostanze posso pensare di metterlo un po' prima in campo visto che è in grado di fare gol in momenti decisivi e non è un dettaglio un calcio d'angolo un qualcosa Posch abbiamo visto che quest'anno non prende la porta neanche con le mani magari un Lollo De Silvestri può risolverti quella situazione ingarbugliata e ha già dimostrato di poterlo fare in mezzo che è un po' lì il nocciolo della questione ci sono tre centrali per due posti Lukumi Beukema o Beukema Calafiori io dopo la prestazione di Lukumi e dopo la prestazione di Calafiori posso dirvi che sono tranquillo con entrambi contro l'Empoli tenderei a puntare un po' di più su Calafiori perché lo vedo un po' più centrocampista rispetto a Lukumi e io credo che ad Empoli sarà importante muoversi bene e attaccare molto molto bene piuttosto che difendere molto molto bene un Empoli chiusa a cui va benissimo il pari per quanto riguarda gli esterni credo che Orsolini e Selemekers possano partire titolari però anche questo ditemelo voi nei commenti chi schiereste sugli esterni perché anche qua tenere in doia in panchina dispiace sempre un po' ragazzi io sono già pronto per andare in questa località in Toscana che so sicuramente che in questo video mi sarà scappata la parola sperando di non aver attirato contro di noi qualsiasi tipo di insomma abbiamo capito e quindi io inizio già a riflettere su quali scaramanzie portare avanti fino a venerdì sera intanto ti ricordo di iscriverti al canale mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il critico inoltre stasera alle 21 ci sarà BFC insieme per parlare di Bologna e prepararci per questa sfida molto 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 delicata perché l'avversaria si lotta per la salvezza ma sappiamo che in questo momento ogni punto loro e nostro può significare tanto tanto per gli obiettivi di entrambi quindi ragazzi ci vediamo stasera ti ricordo di iscriverti al canale mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il critico forza Bologna sempre